Come è nata l'iniziativa dello spettacolo di stasera? Da tempo stiamo lavorando su Dante, sul poema dantesco, proprio per l'attualità del messaggio, dei messaggi, certe situazioni, poi del fascino anche che indubbiamente hanno i personaggi che poi si susseguono nelle varie cantiche. L'Inferno in particolare ha dei personaggi molto affascinanti a nostro avviso. Lavorare su Dante significa anche per noi insegnanti far conoscere il testo ai nostri studenti. E infatti uno degli obiettivi del nostro progetto Dante è proprio questo. Infatti da settembre scorso io e la professoressa Alessandra Porri stiamo portando avanti un progetto di curriculum verticale che riguarda due quinte della scuola primaria dove insegno io più una quarta liceo dove insegna Alessandra. Un progetto che culminerà poi in una rappresentazione finale in maggio, 24 di maggio, al Teatro Bucci e che appunto ci ha permesso in questa fase del nostro lavoro di poter proporre un materiale che noi avevamo già in qualche modo elaborato anche teatralmente parlando. Ecco per cui l'abbiamo proposto perché diciamo era stato anche in parte abbozzato, preparato. Tu Alessandra, che sono detto?